un ristorante mei entro il paese mei quando mangi strascianete fu formaggio ci manderebbe non parliamo del pannacotto non parliamo del pannacotto il pasta buona di un cagliolo e un pene per il pomodoro i uloi le lampaceaune nelle caglie per ne sciaune i sottocchi d'un gorghen sono i mezzi che ci stanno e non sa poi c'è roba buona che sta a voi un ristorante mei entro il paese mei un ristorante mei entro il paese mei non so non so non so grazie a tutti